ben salve e buonasera a tutti benvenuti e ben ritrovati andiamo ad analizzare direttamente quello che è successo nella prima sessione della nuova ottava a cavallo tra il mese di settembre con un incipit di ottava all'insegna delle vendite per i listini europei dax che chiude a meno 0,71 per cento ibex a meno 2,24 per cento cac di parigi meno 1,11 per cento fuzzi londra meno 0,61 per cento e piazza affari che chiude a meno 1,01 per cento per quanto riguarda le news che sono state rilasciate nella seduta odierna si parte con in italia ad agosto l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività all'ordo dei tabacchi registra un aumento dello 0,3 per cento su base mensile e una diminuzione dello 0,5 per cento su base anno questo è quanto emerge la stima preliminare diffusa dall'istat l'aumento congiunturale dell'indice generale dovuto prevalentemente alla crescita dei prezzi e servizi relativi ai trasporti e dei servizi ricreativi culturali per la cura della persona a causa di fattori stagionali sono in parte compensato dal calo dei beni alimentari non lavorati le inflazioni di fondo al netto di energetici degli alimenti freschi e quella al netto dei soli beni energetici decelerano entrambe rispettivamente dallo 0,4 per cento a più 0,3 per cento da 0,6 per cento a più 0,4 per cento ristagna anche l'inflazione in germania nel mese di agosto secondo la stima preliminare pubblicata da destati si prezzi al consumo dovrebbero segnare una variazione congiunturale pari a meno 0,1 per cento meno pronunciata rispetto al meno 0,1 per cento del mese precedente il dato è superiore alle attese degli analisti su base annuale l'inflazione è nulla dopo il meno 0,1 per cento di luglio che si confronta con il più 0,1 per cento del consensus invece domani martedì primo settembre prima giornata del nuovo mese abbiamo già alle ore 0,6 e 30 dall'australia la decisione sui tassi di interesse alle ore 8 le vendite al dettaglio della germania alle 9,55 dalla zona euro sempre l'indice di lettori degli acquisti del settore manufatturiero della germania alle 10,30 dalla gran bretagna stesso indicatore macroeconomico sempre di agosto poi si passa alle ore 11 dalla zona euro l'indice dei prezzi al consumo di agosto alle ore 11 dalla zona euro il tasso di disoccupazione poi alle ore 16 dagli stadi uniti l'indice ism direttori di acquisti settori manufatturiero di agosto alle ore 22 30 invece sempre dagli stadi uniti le scorte settimanali di petrolio bene ora andiamo ad analizzare le gli scenari più importanti partendo dal dalle operazioni dal per quanto riguarda in giornata abbiamo praticamente abbiamo un abbiamo 43 operazioni una si è chiusa in a break even mentre unico stop loss meno 35 punti l'operazione su stellina dollar della nuova zelanda che poi piano piano sta continuando il suo movimento ribassiste per circa pochi pips praticamente è stato raggiunto lo stop loss mentre invece per quanto riguarda l'operazione sul dollaro yen l'operazione buy prima operazione della settimana primo target raggiunto 105 90 secondo target e seconda operazione chiusa ad mercato quindi 30 più 35 75 punti euro yen invece raggiunto il target a 126 60 75 punti 105 punti per quanto riguarda per la prima o l'operazione relativa al loro l'operazione v 49 poi seconda operazione che invece si è chiusa ad si è chiusa a break even mentre come detto prima l'unico da l'unico stop loss meno 35 punti totale abbiamo praticamente in totale punti totale quindi 205 punti per la giornata per quanto riguarda per quanto riguarda il comparto valutario mentre e commodity mentre invece per quanto riguarda l'operazione l'operatività sugli indici due operazioni sul don jones una chiusa mercato a meno 15 punti l'altra target pieno quindi 185 punti il profitto della giornata bene mentre invece andiamo a vedere invece cosa sta succedendo adesso in questo momento sono con euro dollaro euro dollaro che praticamente si trova un dal di sopra della zona di vendita zona che abbiamo test analizzato più volte in passato 118 e 40 c'è stato questo movimento non ha raggiunto ancora il massimo massimo ancora valido di tre settimane fa ovvero praticamente un massimo testato ad 119 70 119 65 da questa zona potrebbe ripartire qualche movimentazione al ribasso come abbiamo detto prima invece dollaro yen operazione giornata all'insieme degli acquisti poi c'è stato questo movimento di correzione quindi abbiamo fatto bene a chiudere la seconda operazione al mercato mentre invece abbiamo per quanto riguarda le altre operazioni abbiamo ancora aperte le operazioni di oggi pomeriggio auto sd il buy su auto sd siamo insomma intorno al prezzo di ingresso al mercato stessa mentre invece per quanto riguarda usd cad il sell sell che in questo momento vedete stiamo anche qua stiamo sul movimento sul prezzo di ingresso al mercato questa situazione potrebbe spingere quindi potrebbe chiudere quest'altro pezzetto quindi di circa una novantina di punti fino ad raggiungere la zona dove la zona di demanda dove potrebbe ripartire una nuova movimentazione al rialzo mentre invece per quanto riguarda i gold le commodity andiamo a vedere il gold di gold operazione quindi 105 punti secondo target di uso a breakeven ed situazione al momento vedete siamo al test del 61 8 abbiamo un'altra operazione di vendita e che se mantiene questa movimentazione potrebbe dare atto a qualche possibile movimentazione sell in questo momento siamo in una zona zona di supply eccola qui dove le quotazioni vedete sono state più volte hanno diciamo rimbalzato su questa zona da qua potrebbe partire una nuova movimentazione al una nuova movimentazione al ribasso per quanto riguarda invece il crudo il crudo abbiamo una situazione in una situazione in cui al momento dobbiamo attendere nelle prossime giornate che cosa succederà in quanto siamo intorno al 42 80 61 8 però di sotto 61 8 la rottura del 61 8 potrebbe far catapultare i prezzi del vtai di nuovo ai massimi dove appunto è partito proprio i 2020 massimi a 65 in area 66 65 e 60 area 66 dove appunto è stare partito il 2020 quindi potrebbe raggiungere nuovo questa zona nell'ultima quarto dimestre gli ultimi quattro mesi e 2020 e quindi qua ci potrebbe stare un movimento se vai alla rottura del 61 8 mentre invece se lo mantiene se si porta sotto i 40 potrebbe partire una movimentazione al ribasso per quanto riguarda invece la situazione legata agli indici passiamo al analizzare la situazione sul down jones in ottica in ottica oraria 28 mila se mantiene quest'area al momento abbiamo questa bullish total 3 però ha fatto un pullback al momento non è ancora confermata questa bullish total 3 28 mila 448 il pv settimanale al di sotto se mantiene quest'area questa zona potrebbe dare atto ad altri movimenti al ribasso bene per questa sera è tutto grazie mille per l'attenzione ci aggiorniamo domani mattina con la seconda diretta live della settimana mattutina alle ore 8 e 30 ovviamente no